Quattro volte è già stato buttato fuori, nel senso che ha partecipato alla corsa della presidenza della Repubblica e quattro volte è stato sconfitto, le pesa molto? Molte volte, anzi tutte quattro volte, non sono arrivato alla sconfitta, mi sono ritirato prima quando ho constatato che la mia presenza poteva turbare. Senatori contrari 161, senatori, 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 no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica a posteria! Grazie a tutti!